Dopo il successo di Vita Cuore Battito, gli Arteteca tornano nelle sale con i loro finalmente sposi, dal 25 gennaio nei cinema. Il famoso duo reso celebre da Made in Sud stavolta si lascia dirigere da un maestro della comicità napoletana, il celebre Lello Arena. Tornano Enzo e Monica, i personaggi amati dal pubblico, che dopo aver avuto un momento di celebrità grazie a un reality show, decidono di sposarsi. E come la miglior tradizione napoletana impone, organizzano l'evento nei minimi dettagli. Salvo scoprire in un secondo momento che le loro finanze non sono sufficienti a pagare le spese del grande evento. Passati i festeggiamenti, i due protagonisti saranno costretti a emigrare in Germania per trovare la stabilità economica e assicurarsi un futuro, portando con loro tutte le surreali gag a cui ci hanno abituati. Un'ora e mezza di risate, come spiega il regista Lello Arena. Finalmente sposi è un film, una commedia che fa ridere e ci sono altri film comici che ridere non fanno e quello è un problema. Sembra che è un bellissimo mestiere starsene tutti insieme con un gruppo di gente di talento, preoccupandosi di far passare un'ora e mezza di risate, di divertimenti, poi anche di piccole riflessioni, di pensieri da portarsi via. I due protagonisti non risparmiano battute e ironia neppure alla presentazione del film, parlando della nascita del loro sodalizio artistico e non solo. L'ho corteggiato per dieci anni? No, non è vero. Allora, che l'ho corteggiato è vero. Per dieci anni no, sono stati nove mesi, perché non si voleva fidanzare con me. Cioè, vuoi pare che uno ha così brutto sua fidanzia con me? È diventata una questione di principio e alla fine ho vinto io. Grazie. 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 Grazie.